In seguimento sul filo dei 130 km all'ora a Rossano Veneto, dove una giovane di Galliera, diretta a Bassano, ha commesso una lunga sele di infrazioni al codice della strada, prima di essere fermata dopo un inseguimento dalla polizia locale. Alla guida della sua auto, infatti, la donna ha superato automobili in coda a ripetizione, per poi spingere il piede sull'acceleratore quando si accorta che i vigili si erano messi al suo inseguimento. Dopo circa 2 km in direzione di Bassano, dove la giovane lavora, Gli agenti sono riusciti a fermarla. Per lei, patente sospesa per almeno tre mesi, multa da 668 euro e 32 punti della patente tolti. Pare che la donna abbia tentato di giustificarsi dicendo che doveva andare al lavoro ed era in ritardo.